Bentornati su Studio eSport, il vostro appuntamento settimanale dedicato alla scena agonistica videolubica. Partiamo con Dota 2 e i nostri inviati a Francoforte in occasione dell'ESL One, il servizio a cura di Arturo Chesi, Bisani e Adriano Milone. Finalmente, nel weekend tra il 28 e il 29 di giugno, si è svolto il tanto atteso ESL One Frankfurt 2014, un evento di rilevo per la scena di Dota 2 e per l'intero esport, in quanto è stato il primo torneo organizzato in uno stadio da calcio, ovvero la Commerbank Serena. L'evento è stata una vera e propria vetrina per Dota 2 e la sua community. Oltre alla competizione, era presente una gara di cosplayer, un meeting con alcuni artisti nel workshop di Steam e svariati commentatori e personalità della scena. Migliaia di fans si sono riuniti in uno stadio sistemato alla perfezione per l'evento. Appena entrati, oltre alla vista mozzafiato, si potevano scrutare gli stands dei vari sponsor della competizione. 8 tra i migliori teams al mondo si sono scontrati in questo evento per vincere un prize pool di 200.000 euro, in un formato ad eliminazione diretta che non lasciava spazio d'errore. Teams come Invictus Gaming, Na'Vi, Alliance e Devil Geniuses si sono dati battaglia per due giorni, facendo puntare la numerosissima folla in differenti occasioni. E' stato in grado di dare la giusta dose di emozioni durante tutto l'evento. Infine, dopo una finale che rimarrà nella storia di Dota 2, il Invictus Gaming ha dimostrato ancora una bontra di essere un team minaccioso, obliterando nell'ultimo game di EG con uno score sensazionale di 22 a 0. Dobbiamo inizionare anche un game particolare tra Alliance e Cloud9, che si è svolto nell'arco di ben 87 minuti. Tra emozioni forti, fans col fiato sospeso e players al limite delle loro capacità, gli Alliance sono riusciti ad assicurarsi la vittoria. In conclusione, per tutti quelli che hanno partecipato all'evento, inclusi noi, è stata un'esperienza fantastica e assolutamente di grande impatto per la scena europea di Dota 2. Ed è proprio in occasioni come questa, che la linea che divide sport da e-sport e videoludismo diventa sempre più sottile, rendendo queste ed altre competizioni sempre più frequenti e comuni negli anni a venire. Ci spostiamo su FIFA 14 e la finale dell'International FIFA League Spring League, targata Showmatch, in servizio di Paolo Blasio. Il torneo ha visto partecipare 64 giocatori europei che sono andati a contendersi 700 euro di monte premi in un torneo ad eliminazione singola al medio dei tre game. Vi rilievo la presenza del giocatore italiano Crazy Fat Gamer al suo esordio in queste competizioni, che tuttavia ha offerto una decisa prova muscolare vincendo per 2-0 quasi tutti gli scontri di vietti sino alla semifinale. In finale l'italiano va ad incontrare un degno avversario, lo svedese Borat Sleger, che lo mette in seria difficoltà fin dal primo scontro, chiusosi in favore del nord europeo per 1-0. Pareggio nel secondo scontro, ma è nel terzo ed ultimo che i due si giocano il tutto per tutto. Apre le marcature lo svedese con Bale al 44esimo da sedia successivamente l'italiano nella sua metà campo. Solo al novantesimo arriva anche il 2-0 che sancisce la vittoria definitiva di Borat Legend, che si porta a casa 400 euro come primo classificato. Si è concluso domenica 29 giugno il terzo campionato Personal Gamer di Geek of Legends, la panoramica a cura di Andrea Mattarelli. I team qualificati per le fasi finali erano 4, Team Titan Easy Fix, Team Snowball Esports, Element Mercury e Siberia Esports. Nella prima semifinale, la quale vedeva scontrarsi il Team Snowball Esports contro gli Element Mercury, ha visto 3 game combattuti che hanno portato gli Element Mercury alla finale con un netto 2-1 ai danni degli Snowball Esports. Nella seconda semifinale, la quale vedeva scontrarsi i Titan Easy Fix contro i Siberia Esports, il Team Titan Easy Fix si è giudicato la finale con un secco 2-0 ai danni dei Siberia. Nella fase finale per il terzo e quarto posto, il Team Siberia Esports si porta a casa il terzo posto ai danni degli Snowball Esports con un secco 2-0. Nella finale per il primo e secondo posto, il Team Titan Easy Fix si aggiudica, come da previsione, il primo posto con un altro secco 2-0 ai danni del Team Element Mercury. Concludiamo questo appuntamento di studio Esports con la nazionale di Star Cup 2 l'amichevole contro il Cile, il servizio occulta di Paolo Blasico. Il 29 giugno è stata chiamata in campo la nazionale italiana di Star Cup 2 per la seconda amichevole del 2014. Fornisce dell'evento il Team Vasacast con commentatori EPP e MMI che hanno dato voce e anima ai 5 game previsti per la giornata. È stato un appuntamento molto sofferto per gli italiani che hanno iniziato ad essere in difficoltà fin dal primo game verso il Buon Ringo non in ottima forma. L'abile giocata di Statico nel secondo game dà qualche speranza che proviene vanificata nel game successivo vinto dal Cile. Le ultime speranze svaniscono nel quarto game che sancisce il 3-1 e la vittoria per il Sudamericano. L'orgoglio tricolore strappa un punto sul finale grazie a narcotiche che porta il risultato definitivo sul 3-2 in favore del team cileno. È da segnalare che la sconfitta ha aperto una riflessione nella comunità italiana di Star Cup 2 e già si vocifera su un radicale cambiamento dietro le quinte per proporsi una veste totalmente rinnovata e più solita nei prossimi pendi della nazionale. Da Polo Blasi per Studi di Sport è tutto alla prossima!